Sapere antico e moderno. Iscriviti al canale e metti mi piace. 5 frasi di Robin McLaurin Williams Ridere non è solo contagioso. Ma è anche la migliore medicina. I politici sono come i pannolini. Bisogna cambiarli spesso. E per lo stesso motivo. I maschi americani oggi sono spaventati da due cose. Una donna col coltello e una col cervello. Certo che esiste il Santo Graal. Altrimenti che cosa erano le crociate? Un giro promozionale del Papa. La morte è il modo che ha la natura di dire. Il suo tavolo è pronto. Grazie per la visione.